guerra in jin capitolo 11 l'inizio della guerra nei documenti coreani del sedicesimo secolo il 1592 corrisponde al ventesimo anno del regno dell'imperatore wang li o al venticinquesimo anno del regno di seong joe tuttavia nella vita comune era in uso un diverso e molto antico sistema di misura del tempo usato sia per i giorni che per gli anni basato su un ciclo di 60 a ogni periodo veniva attribuito un nome composto da uno dei dieci steli celesti derivati dagli elementi di legno fuoco terra metallo e acqua e da un ramo terrestre preso dai dodici segni del zodiaco cinese ovvero topo bue tigre coniglio dragone serpente cavallo montone scimmia gallo cane e maiale il 1592 era il ventinovesimo anno del ciclo chiamato in jin un nome composto dal nono stelo celeste l'acqua del mare con il segno del dragone i coreani non lo consideravano un anno particolarmente sfortunato anzi l'anno del dragone era considerato tradizionalmente come portatore di opportunità e prosperità il 1592 avrebbe cambiato televisione marcando l'anno del dragone come sinonimo di morte e distruzione in quei giorni di maggio che i coreani chiameranno in jin waran ovvero l'anno del dragone d'acqua dell'invasione giapponese saranno considerati la soglia dell'abisso rimanendo nella loro mentalità come persino peggiori degli anni della guerra di corea tra il 1950 e il 1953 potrà sembrare strano ma tra i coreani la memoria di tale invasione rimane viva persino oggi e sembra che ancora non sia stata perdonata tanto che rimane oggetto di risentimento quanto i sentimenti per l'occupazione giapponese della penisola tra il 1910 e il 1945 sembra che il 23 maggio 1592 ci fosse una densa foschia sul mare di fronte a busan chong pal il sessantenne comandante della guarnizione di busan si era recato di buon mattino a caccia su cho leong do un'isola coperta di foresta all'imboccatura del porto chiamata così perché ben popolate di cervi uscendo dalla foresta nel pomeriggio egli fu uno dei primi a vedere l'armata giapponese che copriva tutto il mare avvicinarsi provenendo da da e ma do come i coreani chiamavano l'isola di tsushima chong pal si affrettò a tornare a busan per dare l'allarme e prepararsi i dubbi sulle sue notizie furono ben presto e fugati dai rapporti che provenivano dal guardiano del faro che si trovava lungo la costa e dai segnali di fumo sulle colline dietro busan 90 navi si stavano avvicinando da sud ben presto le navi giapponesi raggiunsero busan e gettarono l'ancora nel porto il comandante della marina sinistra di geong san pan ong osservò il loro arrivo dalla vicina base di ki jang e ne contò non meno di 90 col passare delle ore però il numero delle navi continuò a salire e al tramonto erano giunte già 300 navi giunsero voci dall'arrivo delle navi giapponesi al comandante della marina destra di geong san von kyung nello stesso pomeriggio che faceva fatica a credere a ciò che stava accadendo in un dispaccio inviato al suo collega yi sun sin comandante della marina sinistra di geolla con base a yi su più a ovest von scrive che forse l'enorme flotta era una specie di grossa spedizione commerciale di tsushima tuttavia con l'avanzare dell'ore von iniziò a capire che le cose stavano ben diversamente von kyung 1540-1597 era membro del clan von jung von ed era nato vicino a pyong taek proveniva da una famiglia di militari di professione fin da giovane dimostrò le sue abilità guerriere e superati gli esami militari venne assegnato alla difesa della frontiera nord della corea dalle incursioni delle tribù yurche che affrontò più volte assieme a ii e ai ii sun si poco dopo la noma di ii sun si ad ammiraglio della marina di geolla von kyung venne nominato ammiraglio della marina destra di gyeongsan nel 1592 quindi egli in questo momento ha 52 anni né lui né pak hong comunque fecero il contattativo quel giorno nel giorno successivo di attaccare la flotta giapponese con le 150 pesanti navi da guerra panoxone sotto i loro comandi i due si limitarono a osservare ad aspettare spedendo preoccupanti dispacci mentre le loro navi e loro uomini prima linea di difesa e arma più formidabile dell'arsenale coreano rimanevano fermi nei loro porti l'immobilità di von e pak fu il primo di molti errori strategici commessi da parte coreana nei primi giorni della guerra in jin di fatto la flotta giapponese seppur impressionante numericamente era vulnerabile alle attacche sul mare e avrebbe potuto subire pesanti perdite prima di riuscire a sbarcare i suoi guerrieri circa due mesi prime ide yoshi aveva raccomandato ai suoi daimyo di essere particolarmente attenti nel trasportare le truppe fino a busan avvertendole che la perdita di un singolo uomo a cavallo sarebbe stata giudicata come una grave offesa proprio a tale scopo era stato stabilito che le navi di trasporto sarebbero state scortate dalle navi da guerra fatte costruire apposta per proteggerle a modi con voglio ma ciò non avvenne perché quando il primo contingente salpò da Nagoya verso Tsushima le navi da guerra si stavano ancora radunando nel mare interno del giappone mentre il contingente si trovava nel tratto di mare tra Tsushima e Busan le navi da guerra erano appena arrivate a Nagoya nei fatti le navi da guerra arrivarono a Busan solo una settimana dopo con i shi aveva giocato d'azzardo e aveva fatto sbarcare le sue forze senza alcuna protezione ora si trovava in acque coreane con una flotta di quelle che erano in pratica nave da pesca che non avrebbero mai avuto speranze contro le paroxone se ci fosse stato al comando del flotte coreane di kyung san un ammiraglio più audace quei primi giorni di invasione sarebbero potuti andare molto diversamente al calare della notte del 23 maggio 1592 circa 400 navi che trasportavano il primo contingente di kunishin yuki naga avevano attraversato con successo il tratto di mare tra Tsushima e Busan alle 19.30 di quel giorno un singolo vascello si staccò dalla flotta ed entrò nel porto a bordo di esso vi erano So Yoshitoshi il daimyo cristiano di Tsushima e il monaco buddista Genso che erano stati emissari alla corte di Seoul nel 1589 e che consegnarono a Chong Pal comandante della guarnigione di Busan una lettera nella quale per l'ultima volta si chiedeva di poter attraversare liberamente la penisola per raggiungere la Cina non avendo ricevuto alcuna risposta tornarono sulla loro nave e si riunirono alla flotta giapponese forse So Yoshitoshi e suo suocero kunishi yuki naga avevano sperato che una dimostrazione di forza avrebbe convinto i coreani ad accettare le richieste di Hideyoshi evitando uno scontro ma il rifiuto di Chong Pal rese chiaro che non era possibile con la loro poderosa forza d'invasione i due daimyo non persero tempo a cercare un accordo per diverse ore la flotta giapponese rimase immobile a largo mentre i coreani la osservavano dalle mura del castello di Busan poi alle 4 del mattino successivo nel 24 maggio iniziò lo sbarco per primi preso la terra i 5.000 uomini di So Yoshitoshi era una scelta logica dato che egli aveva visitato Busan molte volte e conosceva il terreno e le difese del posto meglio di comunque altro comandante Hideyoshi probabilmente all'inizio vedere le sue familiari insegne confuse un po i coreani ma presto fu chiaro che lui e i suoi uomini non erano lì a scopi diplomatici i guerrieri giapponesi scesero dalla nave in armatura completa e armi alla mano dopo di loro sbarcarono i 7.000 uomini di kunishi yuki naga sotto gli standardi del clan kunishi che recava a quale simbolo le bianche borse di carta usate dai farmacisti giapponesi per trasportare le medicine kunishi stesso cavalcava un cavallo donatoli dai dayyoshi prima della partenza dopo kunishi venne mazura signore di irado e poi arima omura e goto in totale 18.700 uomini che si radunarono in ranghi e poi si divisero in due kunishi guidò una parte degli uomini per alcuni chilometri in direzione sud ovest lungo il porto verso il fondo il forte di Tadaipo alla bocca del fiume Naktong i difensori del forte agli ordini di yung hung sing riuscirono a spingere il primo salto ma vennero sopraffatti dal secondo e vennero tutti passati a fil di spada so yoshitoshi intanto aveva iniziato ad avanzare verso il castello di busan chiese un'ultima volta a chiong pal di arrendersi asserendo che il loro obiettivo era arrivare in cina e non avevano intenzione di combattere i coreani se li avessero lasciati passare chiong rifiutò di arrendersi sostenendo che salvo ordini contrari era suo dovere resistere all'avanzata giapponese dopo di che chiong pal si rivolse ai suoi uomini dicendo loro che si aspettava che combattessero coraggiosamente e che avrebbe ucciso con le sue mani chiunque avesse cercato di fuggire all'alba inizia una violenta ma breve battaglia nella quale i coreani sperimentarono per la prima volta il valore dell'archibugio sul campo lo stesso chiong pal rimase ucciso e circa alle 9 del mattino ogni resistenza era cessata il samurai cronista yushino jingo daimon racconta che trovammo le persone che correvano a nascondersi negli intestizi tra le case mentre coloro che non potevano nascondersi uscirono dalla porta est e lì giunte le mani insieme ci imploravano con l'espressione cinese mano mano chiedendo pietà senza spessarli ascolto i nostri soldati avanzarono li uccisero massacrandoli come sacrificio di sangue all'idea della guerra uomini donne e persino cani e gatti furono decapitati tratto da yushino jingo daimon oboagaki citato in stephen turbo samurai invasion londra 2002 stando alle cronache giapponesi abusa vennero ucciso 8.500 coreani mentre 200 vennero presi prigionieri tra i morti vi fu anche la concubina diciottenne di chiongpa che invece aveva 60 anni a e yang il cui corpo fu ritrovato vicino a quello del comandante si era tolta la vita di sua mano pak hong comandante della marina sinistra di kyongsheng con base a ki jang poco distante in direzione est era stato testimone della battaglia dalla cima di una vicina collina in preda al panico egli diede ordine di affondare le proprie navi circa 100 vascelli tra cui almeno 50 panoxon e di distruggere tutte le armi e le provviste dandovi fuoco in modo che non cadessero in mano al nemico quindi lasciò il suo posto di fuggire verso nord fino a seul lasciando nel più totale scompiglio migliaia di soldati marinai che seguirono il suo esempio il giorno dopo aver preso il castello di busan e il forte di tadaipo con ishi riorganizzò le sue forze e marciò sulla fortezza di tongnai a circa 10 chilometri a nord est sulla strada principale per seul questa era la fortificazione più solita della zona una possente cittadella posta sulla cima di una collina di fronte al monte kongjong nella quale si trovavano in quel momento circa 20.000 coreani divisi tra coscritti poco addestrati e civili nel palico al comando di essa stava il prefetto di dongnai song sanghion un funzionario governativo di 41 anni come a busan i giapponesi offrirono al song di rendersi scrivendo su un grosso cartello combatti se vuoi combattere oppure abbassa le armi e lasciaci passare ma il prefetto rispose con un messaggio che recitava combattere e morire è semplice ma non posso lasciarvi passare pur sapendo di non avere speranze sembra che song si sia rifiutato di fuggire rammaricandosi solo del dolore che la sua morte avrebbe causato ai suoi genitori la battaglia di dongnai iniziò alle 8 del mattino e stando alle croniche coreane si portasse per 12 ore mentre i giapponesi parlano di quattro ore di scontri gli uomini e le donne assediati si difesero con feroce tenacia lanciando frecce e lanci e persino pietre sugli attaccanti mentre song sanghion suonava il grande tamburo del paniglione superiore per incitare i suoi soldati spero sia un immagine poetica e non abbia davvero perso tempo così sembra che anche stavolta i moschetti degli hanshigaru abbiano piegato le difese coreane consentendo ai giapponesi di dare il salto alle mura grazie a scale di bambù con lo stesso con ishi nelle prime file katana alla mano sembra anche che song fosse stato catturato vivo ma si è poi finito decapitato da un gruppo di soldati le parti giapponesi ammontarono a circa 100 morti e 400 feriti mentre i morti coreani furono ben 5.000 avendo appreso della morte di song so io fitoshi che era stato suo ospite durante le missioni antecedenti al conflitto ed era ansioso di salvargli la vita dette ordine di tenere una cerimonia funebre per lui e di scrivere un epitafio che recitava un suddito leale song venne inumato nella montagna alle spalle di dong nae in un boschetto di castagni circa due anni più tardi nel 1594 un membro della sua famiglia si recherà a dong nae per reclamare il suo corpo e riportarlo a casa il comandante della marina destra di gyeongsan wong kyun intanto iniziava ad andare nel panico nella sua base sull'isola di gyoje dopo le notizie sull'arrivo dell'armata giapponese gli erano giunte anche le notizie della caduta del castello di busan e del forte di dong nae e infine era venuto a sapere della dinesezione del suo collega pak hong e dell'autodistruzione della flotta della marina destra di gyeongsan a quel punto wong kyun pensò solo a darsi la fuga inizialmente la sua ritirata si svolse con un certo ordine verso ovest dove wong intendeva condurre in salvo le sue navi ma alla vista di un gruppo di barche da pesca scambiate per vascelli giapponesi presto andò nel panico e anche lui diede ordine di affondare le navi e distruggere le armi wong stesso stava per lasciare la sua nave e fuggire verso le connie quando due dei suoi subordinati più sinceri gli ricordarono le conseguenze di un simile atto di codardia e gli suggerirono di mandare una richiesta delle forze all'ammiraglio yi sun si della marina sinistra di giolla e intanto cercare di tenere la posizione un infelice wong decise infine di restare e combattere ma poteva fare ben poco dato che delle cento navi inizialmente a sua disposizione le rimanevano solo quattro in pratica nel sud della penisola a poter affrontare i giapponesi rimanevano solo le nemmeno cento navi della marina destra e sinistra di giolla che per fortuna della corea erano comandate da yi sun si e i o ki uomini di ben altra tempra rispetto ai loro corrispondenti della provincia di gyeongsang hi e o ki 1561 1597 morte a 36 anni all'epoca di in jim a 32 anni comandante della marina di geolla era nato a hansong lo diana seul e fin da giovane si dimostrò un abile guerriero combattendo alla frontiera nord contro il nome di yu chen dopo aver conquistato busan e la vicina dougnai ed aver stabilito una testa di ponte per l'invasione konishi yuki naga non attese l'arrivo dei contingenti di kato e guroda ma si mise subito in marcia verso seul cambiando il piano stabilito per l'invasione konishi forse aveva sempre avuto intenzione di lasciarsi dietro i suoi rivali e reclamare tutta la gloria per la conquista della capitana della corea oppure gli venne tale idea solo in seguito alla sicurezza derivateli dalla rapida presa di busan tadaipo e dongnai in appena due giorni oppure ancora voleva avanzare prima che i coreani potessero riorganizzare le proprie difese e contrattaccare ad ogni modo il 26 maggio 1592 il terzo giorno dell'invasione konishi so yoshitoshi e il grosso del primo contingente si misero in marcia per la capitale a circa 450 chilometri verso nord su un terreno montagnoso viaggiarono lungo la strada centrale nel mezzo della penisola a una velocità di oltre 20 chilometri al giorno un passo notevole considerando le schermaglie e le battaglie che avrebbero sostenuto lungo la via per fare un paragone stando a quanto sostiene von clausewitz le truppe durante le guerre napoleoniche riuscivano a coprire marciando a passo normale circa 22 chilometri al giorno su terreno pianeggiante e in strade normali in circa 9 ore mentre in caso di terreni montagnosi servivano circa 11 ore le stesse truppe a marce forzate potevano arrivare a coprire 37 chilometri in 16 ore sempre su strade in buone condizioni c'è da precisare che normalmente le truppe alternavano un giorno di marcia ad un giorno di riposo la prima città in cui arrivarono fu yangsan che trovarono deserta il magistrato e la popolazione erano fuggiti sulle colline quindi presero la strada per il passo di chakvon dove vennero momentaneamente rallentati da una forza difensiva raccolta alla svelta che venne comunque spazzata via dai moschetti giapponesi che uccisero circa 300 coreani e permisero alle truppe di raggiungere la città di Myriang la città di Daegu era la prossima il generale Yi Kak, comandante dell'armata sinistra della provincia di Kyeongsan si era ritirato da Dongna subito dopo lo sbarco giapponese e aveva cercato di riorganizzare le sue forze in quella cittadina fortificata al centro della provincia erano stati anche richiesti rinforzi dalla città di Sangju che si trovava più a nord tuttavia era troppo tardi i giapponesi piombarono sulla città prima che si potesse preparare qualsiasi tipo di difesa Daegu cadde il 28 maggio 1592 i coreani iniziavano a dubitare di poter fermare le truppe giapponesi che sembravano invincibili il governatore della provincia di Gyeongsan, Kim Soo aveva in effetti diramato una chiamata alle armi subito dopo l'inizio dell'invasione e aveva tentato di guidare tale forza verso sud per salvare Busan ma mentre erano in marcia, venuti a sapere della caduta di Dongna aveva rinunciato a ogni resistenza e aveva anzi ritirato il suo precedente proclamo invitando invece le persone della provincia a fuggire per salvare le proprie vite Entro il 29 maggio 1592 una settimana dopo lo sbarco a Busan l'esercito giapponese aveva praticamente coperto la distanza dell'intera provincia di Gyeongsan e metà della strada verso Seoul senza incontrare alcuna vera resistenza L'emissario reale Yi Eik riportò a Seoul il 31 maggio 1592 arrivando da Mungyeong sul confine settentrionale della provincia che avevano incontrato un nemico provvisto di una forza e abilità divine a cui non avevano nessuno da opporre Le notizie dell'invasione giapponese iniziarono a raggiungere ovest a Yeosu base dell'ammiraglio della marina sinistra di Seoul Yi Sun Sin il 25 maggio 1592 Per primi giunsero confusi i dispacci degli ammiragli della marina di Gyeongsan, Pak Ong e Wonkyun ma non era chiaro che cosa stesse accadendo L'ammiraglio Yi mandò ordini a cinque porti sotto il suo comando di entrare in massima allerta e pose la sua stessa nave da guerra all'imboccatura del porto di Yeosu per difenderlo Inviò anche dispacci a ovest a Wuzhong base dell'ammiraglio della marina destra di Geolla Yi Ho Kim e al governatore provinciale Yi Kuang nonché alla corte di Seoul La gravità della situazione divenne chiara il giorno successivo quando giunsero ulteriori rapporti che i giapponesi avevano conquistato il castello di Busan e poi il 28 maggio quando giunse notizia del fatto di Tongnai Arrivarono poi notizie con l'incredibile autofondamento delle flotte della provincia di Gyeongsan ad opera dei loro stessi comandanti Pak Song aveva disertato e si era nascosto all'interno mentre Wonkyu era nascosto da qualche parte lungo la costa ovest dell'isola di Gyeongsan con le quattro navi che gli erano rimaste in attesa di rinforzi da parte di Yi Sun Si Yi Sun Si non aveva fretta di scendere in battaglia Passarono due settimane e mezzo prima che decidesse di condurre la sua flotta verso est da Yeosu per andare incontro ai giapponesi Una ragione di ciò era la mancanza di ordini Prima dello scopo della guerra Seoul infatti non aveva dato ai suoi comandanti l'autorità di agire come meglio credevano in caso di emergenza Ogni comandante era semplicemente incaricato di difendere il territorio a lui assegnato quindi per Yi Sun Si salpare verso la provincia di Gyeongsan e andare in aiuto di Wonkyu sarebbe equivalso ad abbandonare il suo posto Inoltre nello stesso Yi avrebbe in seguito raccomandato ai suoi capitani di non agire percepitosamente ma di deliberare da farsi con la stessa calma di una montagna Probabilmente Yi aveva intuito che era sul mare che potevano abbattere i giapponesi Nelle settimane intercorse quindi Yi si dedicò ai preparativi decidendo che il modo migliore di contrattaccare era unire le sue modeste forze ovvero 24 panoxon, 15 vascelli di media stanza e 46 barche da pesca requisite che avrebbe in seguito scartato come inutili con le navi di Yi Okhi e la marina destra di Geolla Dal diario di Yi Sun Si e dei suoi messaggi a Seoul emerge che iniziò subito a lavorare in tale direzione Inoltre Yi iniziò a raccogliere informazioni sulle coste della provincia di Gyeongsan dato che la costa sud della Corea è un dedoro di rocce e secche nella quale ogni nave può trovare la sua fine Fece perciò richiesta ai governatori di Gyeongsan, Kim Soo e a Wonkyu di inviargli delle mappe che studiò molto attentamente Yi aveva anche bisogno di tempo per preparare mentalmente i suoi uomini per le battaglie che li attendevano Le notizie della caduta di Busan e Dongnaen e la presunta invincibilità dei soldati giapponesi sicuramente rendeva nervosi i suoi uomini Sembra che in questo periodo di tempo Yi abbia avuto diversi incontri con i suoi capitani al fine di saggiarne la determinazione e per costruire in loro la convinzione a combattere fino alla morte Tuttavia l'ammiraglio Wonkyu, nascosto con le sue quattro navi giudicò che Yi Sun-si stesse prendendo tempo e si rifiutasse di accorrere in suo aiuto e con l'andare del tempo questo sarà uno dei tanti frantendimenti che porteranno i due uomini ad odiarsi La notizia dell'invasione giapponese impiegò quattro giorni per coprire i 450 chilometri fino a Seoul Il primo dispaccio arrivò a cavallo, spedito da Pak Ong, ammiraglio della marina sinistra di Gyeongsang Pak stesso non era molto distante Dopo oltre un anno di preparativi per la guerra, solo adesso il governo si risolse ad assegnare i generali alle armate nazionali Nel 1591 il ministro della sinistra Yu Song-yong aveva chiesto che i generali fossero spediti preventivamente a prendere il comando delle truppe ma era stato osteggiato dai suoi avversari e dalle consuetudini della burocrazia di corte Ora, i generali dovevano correre a sprombattuto alle province loro segnate per difendere la nazione Il ruolo di Do Wun-su, comandante supremo, fu assegnato al funzionario civile Kim Myung-won di 58 anni scelto in base alla scuola di pensiero neo-confuciana che credeva che un funzionario che conosceva i classici fosse capace di guidare un esercito in guerra pur senza alcuna esperienza militare sul campo Come Sam-do Sung-byong-sa, ovvero comandante di tre province cioè quelle di Gyeong-sam, Jeolla e Chung-chung venne scelto Sip-hip, un ufficiale militare A scendere per il posto di Sung-byong-sa, comandante provinciale venne disegnato He-hil per la provincia di Gyeong-sam e poi un pugno di Pang-go-sa comandante delle contee incaricati di difendere i punti strategici Una volta assegnati gli incarichi, si pensò a cercare qualcuno da incolpare per la presente crisi e come colpevole venne individuato Kim Sung-il, l'inviato che nel 1591 era stato in Giappone e ne era tornato assicurando che non si sarebbero mai giunti a una guerra Kim, che in quel momento ricopriva il ruolo di comandante dell'armata destra di Gyeong-san venne arrestato per aver fatto un falso rapporto al trono accusa che quasi certamente prevedeva la morte e venne trasportato a Seoul in catene come prigioniero ma se la cavò perché il suo amico Yu Sung-yong intercesse per lui ed ottenne il perdono reale Kim sarà spedito nella provincia di Gyeong-san come ufficiale di reclutamento delle truppe civili ma si ammalerà e morirà l'anno seguente I coreani sapevano bene che percorso avrebbero seguito i giapponesi verso nord Dato che la Corea è molto montagnosa tanto che un vecchio scherzo afferma che se fosse piatta sarebbe grande come la Cina i viaggi sui lunghi tratti erano necessariamente limitati a poche strade che si snodavano in un labirinto di valli e passi di montagna altrimenti invalicabili Vi erano tre strade che collegavano Busan a Seoul di cui i giapponesi potevano essere a conoscenza ovvero la strada orientale che attraversa la provincia di Gyeong-san quella occidentale che attraversa la provincia di Geolla e la centrale, la più diretta, che passava nel centro della penisola Le difese vennero perciò approntate di conseguenza Il generale Yi-hil si sarebbe diretto verso sud lungo la strada centrale per incontrare i giapponesi finché si trovavano ancora nella provincia di Gyeong-san Il generale Si-hi avrebbe preparato le sue forze più a nord lungo la strada centrale, nella città di Cheong-ju dove avrebbe aspettato il nemico se il generale Yi-hil fosse stato superato I generali del contè intanto si sarebbero diretti verso sud per presidiare i punti strategici Il generale Pyeong-ki a Cho-ryong, il passo dell'uccello uno stretto passaggio tra le montagne del Sobaek, sulla via centrale tra le città di Seng-ju e Chung-ju Il generale Yu-kung-ri-ha, più a nord invece a Chung-nyong, il passo del bambù, a breve distanza da Seoul Il generale Cho-kyong andò verso sud per bloccare i giapponesi lungo la strada occidentale che dava sul mar giallo Infine il generale Song-ung-ji prese invece la strada orientale sul versante opposto della penisola Il comandante in capo Kim Myung-won sarebbe rimasto a Seoul per sovraintendere i preparativi di difesa della capitale Tutti loro ebbero difficoltà a riunire le truppe da guidare verso sud Le liste militari dei soldati che avrebbero dovuto trovarsi nella capitale e nelle difficinanze si rivelarono inutili dato che la maggioranza di quelli uomini era assente con la scusa di essere ammalati o per adempere al periodo di lutto di due anni per la morte di un genitore La truppa di 3.000 soldati assegnata al generale Hill, ad esempio si rivelò una forza miserabile composta per la maggior parte da studenti reclutati al volo e da scrivani governativi tirati fuori dai loro uffici Dovendo partire subito, Yi decise di lasciare quel gruppo di incapaci dietro di sé e di andarsene con una guardia di 60 cavalieri su cui poteva fare affidamento sperando di poter reclutare guerrieri validi lungo la strada La situazione era solo di poco migliore per il suo superiore e generale Sin-hip che sarebbe partito da Seoul il giorno dopo Re e Song-joon si rieccò a dargli commiato assieme a buona parte della preoccupata popolazione e gli donò, in una breve cerimonia, una preziosa spada al simbolo della sua autorità militare oltre a dargli il permesso di chiamare gli uomini a delle armi requisire qualsiasi arma dalle armerie governative e giustiziare chiunque si rifiutasse di obbedire ai suoi ordini Re e Song-joon si aspettava grandi cose da Sin dato che era considerato il miglior generale della nazione con una lunga carriera in cavalleria contro le tribù Yurchen del nord Egli aveva dimostrato grande sicurezza prima della guerra dicendo a Yu Song-joon che anche se i soldati di Hideyoshi erano armati di moschetto non ci avrebbero colpito per niente Anche adesso Sin continuava a parlare con sicurezza affermando che i giapponesi stavano allungando troppo le loro linee di rifornimento e così diventavano ogni giorno più vulnerabili alle devastanti cariche di cavalleria che avrebbe scatenato su di loro facendo voto di fermare le loro avanzate o di non tornare vivo Forse Sin non aveva ben chiaro l'efficacia dei moschetti o della macchina bellica giapponese o forse cercava di infondere sicurezza ai suoi uomini ma avrebbe ben presto capito che si trovava ad affrontare qualcosa di ben diverso da un gruppo di razziatori Mentre il generale Sin lasciava a Seul per andare incontro al nemico il secondo contingente dell'invasione giapponese era arrivato a Busan Dopo un fastidioso ritardo dovuto all'encistan di aspettare eventi favorevoli era finalmente riuscito a compiere la traversata da Tsushima il 28 maggio 1592 cinque giorni dopo l'avanguardia di Konishi Yukinaga era composto di 22.800 uomini tutti provenienti esclusivamente dal sud di Kyushu e sotto il comando supremo di Kato Kiyomasa il trentenne signore del castello di Kumamoto nella provincia di Igo Lo standard del contingente composto interamente da buddhisti della sette anni Ciren recava in rosso il mantra Namu Myogo Rengo Kyo ovvero gloria al santo loto la setta era stata fondata dal monico Nichiren vissuto ai tempi della tentata invasione mongola circa 200 anni prima Kato e sui uomini temono essere stati una visione impressionante Kato stesso era facilmente riconoscibile dagli alti elmi che amava indossare dipinti in oro e argento che ricordavano gli alti cappelli iconici portati alla corte imperiale che agli occhi di un occidentale moderno potrebbero ricordare la coda allungata di uno squalo oppure un'alta mitra a differenza degli altri damion Kato portava la barba si dice per sentire meno del fastidio del lancio sottogolo dell'elmo e impugnava una lancia a tre lame la sua arma favorita i subordinati di Kato montavano splendidi cavalli indossavano corazze finemente lavorate e portavano elmi cornuti oltre a bandierine di riconoscimenti con dipinto un cerchio l'emblema del clan Kato Kato era probabilmente il più ambizioso dei comandanti di Hideyoshi e di sicuro il fatto che il suo rivalo Kunishi aveva avuto l'onore di sbarcare per primo non gli piaceva ma ora che era finalmente giunto Busan le loro chance di glorie sarebbero state le stesse ma dov'era Kunishi? avrebbe dovuto aspettare a Busan l'arrivo del secondo e del terzo contingente per avanzare simultaneamente lungo le strade principali verso Seoul eppure non si trovava più nella città portuale Kunishi infatti era già partito una volta di Seoul appena conquistate Busan e Dongnai Kato era furioso radunò le sue truppe e partì a passo forzato lungo il percorso orientale che gli era stato assegnato conquistò Busan senza incontrare l'istenza a Kyeongchun, capitale dell'antico regno di Silla schiacciò facilmente le improvvisate difese dando fuoco a parte dei templi e degli edifici della città e uccidendo 3000 persone a seguire conquistò Yongchun, poi Singyong e Kumi Kato non rallettò il passo e spinse i suoi uomini a marciare giorno e notte determinato a recuperare lo svantaggio nei confronti di Kunishi il terzo contingente di Kuroda Nakamasa arrivò dunque da Tsushima probabilmente navigando su molte delle stesse navi che avevano trasportato Kunishi e i suoi guerrieri attraverso lo stretto fino a Busan sbarcando a Angol Po il 20 chilometri a ovest di Busan il 20 maggio 1592 le truppe di Kuroda, 11.000 uomini erano riconoscibili grazie al disco nero sul loro stendardo Sashimon che rappresentava il nome del clan del loro comandante il cui significato era appunto campo nero a soli 23 anni Kuroda era il più giovane rispetto a Kunishi e Kato e perciò forse non nutriva l'intenzione di rivaleggiare con loro perché avesse conquistato più gloria dopo aver concluso il suo sbarco e aver preso il vicino forte di Kimbae dove i suoi uomini presero ben mille teste Kuroda iniziò a marciare lungo la strada ovest che gli era stata assegnata conquistando le cittadine di Changyong, Sangju, Chongju e Suwon e poi continuando verso il fiume Han e Seoul quindi ora vi erano ben tre armate giapponesi sul suolo coreano di certo vi erano state delle perdite ma probabilmente a questo punto Kunishi poteva contare ancora su circa 15.000 uomini degli iniziali 18.700 Kato su quasi 20.000 degli iniziali 22.800 e Kuroda su 9.000 degli iniziali 11.000